Musica Siamo qui davanti alla sede della Borsa Italiana dove si sta svolgendo ReItaly che è diventata ormai il punto di riferimento al mercato immobiliare italiano. Quasi 500 i presenti, tutti addetti ai lavori che si stanno confrontando sui temi caldi del real estate italiano. Luca Dondile è uno sicuramente dei massimi esperti al mercato immobiliare italiano, delle tendenze, un analista raffinato da questo punto di vista. Cosa ci aspetta per i prossimi mesi del mercato? Un ulteriore aumento delle compravendite confermando la tendenza degli ultimi anni e una progressiva stabilizzazione dei prezzi. E' chiaro che su questo scenario incombono fattori di carattere macroeconomico che in pratica delineeranno un quadro più chiaro nel momento in cui si manifesteranno. Gli ultimi dati dell'ABI dicono che siamo al minimo storico come costo dei mutui, però guardando poi le offerte dei vari istituti di credito notiamo che ci sono anche dei fattori di tensione, ad esempio qualche banca ha alzato gli spread e poi c'è comunque sui tassi sottostanti, quindi IRSE e Euribor, appunto qualche elemento di rialzo. A suo avviso questo potrà impattare negativamente sul mercato o sulle erogazioni? Indubbiamente il mercato ha beneficiato dei bassi tassi che sono figli di condizioni generali e di capacità delle banche di erogare credito. E' chiaro che un rialzo dei tassi in prospettiva è un elemento penalizzante perché molta della ripresa in atto è una ripresa che dipende da debito, o quantomeno per il settore residenziale, quindi un eventuale inaspirimento dei criteri di erogazione o di innalzamento del costo del debito avrebbe inevitabilmente effetti sul mercato. A livello di città italiane quali sono le più dinamiche e quali invece è in maggiore sofferenza? Il mercato riparte dalle realtà maggiori, quindi oggi sono le città di Firenze, di Bologna, di Venezia, in parte Milano, invece più attardate sono altre realtà, soprattutto al sud e più in generale i capoluoghi di provincia di dimensioni più contenute e i comuni minori.